Ciao a tutti amici di TWKT Fitness TV dal vostro personal trainer Fabrizio Ferri Questo video è dedicato a chi come me ama gli elettrostimolatori Oggi mi è appena arrivato il pacchettino Amazon Siamo sotto Black Friday Week Quindi c'è qualche offerta che vi consiglio di prendere al volo Per qualsiasi acquisto voleste fare C'è il link di questo in descrizione E c'è anche il modello leggermente superiore Però visto che le differenze sono poche Vi consiglio di optare per questo Che avete più volte visto sul mio canale Che è il Max Power 7.8 Eccolo qua Allora, questo elettrostimolatore dal TESMED TRIO 6.5 Ha una grossa, anzi ha diversi vantaggi in più Intanto le possibilità di programmare più punti del corpo insieme E di avere più scelta nella selezione delle modalità Quindi stimolazione TENS, tonificazione, massa muscolare, massa muscolare resistente Poi andiamo sull'universo femminile Dove andiamo a vedere il benessere quindi massaggiante La tonificazione di muscoli come gluteo interno coscia, esterno coscia e polpacci E non per ultimi dimagrimento e riduzione della cellulina Che cosa ci faccio io con il TESMED quando ho fatto le spalle da circa 10 minuti Adesso mi attaccherò in modalità massaggiante al trapezio Questi miei cari e fedeli elettrodi Ma prima voglio mostrarvi, per chi magari non lo conoscesse Questo prodotto Estremamente interessante Ecco come si presenta Appena aperto TESMED MAX Ok tutto ovviamente impellicolato Veramente ben fatto, ben rifiuto Ho una passione per questo elettrostimolatore Quindi se mi conoscete avete già visto diversi video inerenti a questo prodotto O comunque tanti altri Sto per pubblicarvi in rete La parte che ci interessa a noi è questa qua Ovvero questo fantastico libretto Che ci permette di capire come posizionare Posizionare gli elettrodi sul nostro corpo Quindi questa è per le donne Poi andiamo alla parte che ci interessa a noi ragazzacci Questa è la parte per le braccia, per le gambe, per il dorso, per gli addominali Molto importante E a differenza degli altri elettrostimatori un po' più commerciali Con questo prodotto possiamo lavorare su 4 distinti canali Quello al centro è per la ricarica E possiamo sfruttare ovviamente 4 tipologie di capelli Seleziona il contorno con il blu, l'arancione, il verde e il giallo Sapendo dove vanno messi Sarà più semplice inserire gli spinotti e utilizzarli Ma voglio farvi vedere cosa ci faccio io oggi Come terapia per il collo Visto che ho fatto appena adesso le spalle Sfrutteremo il blu e l'arancione In questo modo qua Quindi posizionerò qua gli elettrodi Sulla zona alta del trapezio Ho detto arancione e blu Lo faccio e torno a farvi vedere cosa e come gli ho messo Dove andrò a mettere gli elettrodi Partendo dalla parte posteriore Spero si veda abbastanza bene Primo punto Facendolo da solo devo puntare alle zone più morbide Quindi la parte più vicina al collo E la parte leggermente più laterale Non sulla scapola ma un po' più sopra Quindi ho due punti per il trapezio Fatti e impostati gli elettrodi Inizio a fare freschino Quindi metto subito la maglia Ma devo mettere i due spinottini Il blu e l'arancione Eccoli qua Blu e arancione E mi farò un bel programma tense Per sciogliere questi piccoli fastidi Ce l'ho qui Ok E' impostato Torno a mettermi la maglia Se no mi congelo Questo si può fare tranquillamente con la maglia Quindi non sai per stare nudi per farlo Ho scelto il programma per le spalle Non so se non siete molto bene Comunque poi vi mostrerò la foto Farò livello Sceglierò il programma più lungo Ovvero il 48 Che dura 28 minuti Quindi estremamente riscarico Molto rilassante E poi vi dirò come Avendo già il percorso tense Perché l'ho fatto con il TESMET TRIO E con questo qui Proprio pochi giorni fa Non ho fatto questo così intenso Quindi vediamo un po' se è veramente più Porta più benefici Rispetto all'altro Ma Cosa importante E' capire come gestire gli elettrodi Come gestire l'apparecchio Non diventare maniaci E rispettare tutti quelli che sono Diciamo così I comandi che trovate qui sopra E se avete dubbi Seguite il canale Perché troverete Tanti tanti video Inerenti all'applicazione Del beti elettrodi Anche non direttamente Da catalogo Da guida Ecco Non mi venire al termine Perciò Non vi resta che iscrivervi Lasciare un commento Se siete curiosi Di conoscere qualcosina in più E seguire WKT Fitness Vi ringrazio veramente Per la tanta partecipazione Ormai Non neanche Ho più le parole Per dirvi Quanto sono felice Spero soltanto Di potervi dare Video Continuamente Di migliore qualità Io ovviamente Lo attacco Allora Con il tasto On e Off Scirco di avere Soltanto due elettrodi funzionanti Imposto poi Il programma Dicevo Il 48 Siamo a 35 48 48 Sono a 28 minuti Come vi dicevo E adesso Con le fraccette Su e giù Ve le mostro Mode Ci siamo Ok Clicco Diamo su mode Adesso mi compare Questa lineetta Qua Che mi dice Aumentiamo Diamo l'intensità Io già sento Tremolare Do un po' più Di input Ok Sembra che inizia A sentirsi Lo porto a 5 E lo faccio Lavorare Questo moschettone Ci permette Di agganciarci Con il pantalone Così non cade Non ce lo perdiamo E non stiamo Terti a pensare A che fine farà Il test Ciao a tutti ragazzi Buon fitness Ancora Grazie per essere iscritti E perché ancora Non lo fossi Beh che aspettate Ciao a tutti Buon allenamento E buoni acquisti Con il Black Friday